Ma ritornando proprio ai fatti di reggio, lei accennava giustamente prima, c'è questa sorta di strategia più grande ed è proprio di questi giorni questo documento anonimo, insomma in sostanza mafia, camorra e indrangheta avrebbero fatto questo summit per decidere questa strategia da adottare per condizionare, per frenare le persone dello Stato, i magistrati, le forze dell'ordine che si battono quotidianamente per scompiggere la criminalità organizzata. È innegabile, questo lo aggiungo, che nonostante le difficoltà di organico, sottodimensionamento, eccetera, eccetera, i risultati anche in Calabria ci sono stati, ci sono stati gli arresti, sono stati arrestati pericolosi latitanti e questo lo sottolineo grazie al lavoro dei magistrati e delle forze dell'ordine, sono stati confiscati e sequestrati beni appunto nelle disponibilità dei clan mafiosi, quindi si sa che indebolendo, privando le cosche del loro potere economico si indebolisce la consorteria.